Fai nei diretti, prego, ma perché dovete limitare la libertà delle persone? Se io voglio masticare così con una grezza, fatemi fare la grezza, che cavolo? Ma su questo tratto nella strada c'è sempre un po' di mia. Grazie, come la qualità di rimane? Ciao, ma tu sei ben in coppia stupenda, grazie. Aspettiamo la cittura però, dopo la cittura. Guarda, mi dà più. Ragazzi, dove andate in vacanza? Ma dove è? Se non mi conosco Sanzionini. Ma si è toccato. C'è una cosa che... Ma che... ma... 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 ma io non posso... Ma ti permetti, vorrei dire che vedi. Ciao. Ciao. Dove siete? Grazie. Allora, Santorini o Micoros? Che chiese? Chi va a Santorini o Micoros ad Augusto? Amore, non ci sono mai stata in Grecia. Ciao. Sì. Grazie. Ciao. E' divertito a Grecia se c'è così. Ah, grazie. E' divertito a Grecia se c'è così. E' divertito a Grecia se c'è così. Bene, bene. Ma comunque a Grecia ci saremo in un sacco le nostre vacanze. Ci sarai. Parliamo di vacanza adesso. Ci sarai. Ma adesso non mi piace. Ti fai? Non vorrei rovinare le tue vacanze. La mia nuova presenza. Potresti soltanto io la... Ma dovremmo riesco a andare da me. E' divertito a fare... In casa viene io. Allora, tutti i ragazzi ci mettono a te. E' divertito a me. E' divertito a me. E' divertito a me. Mamma mia che bellezza. Ciao Natalie. Giorgio, amico, perché siete belli, voglio quanto fa veramente Ma quanto fa? E' bello, quanto si proprio Poi così Grazie Adatta, mi piace facciamo qui, ci, ci, ci Sì, sì, è bello Pietro, come si è trovata Messina? Molto bella, ragazzi Ciao Giorgio, ti saluto. Quali ragazzi siciliani sono come noi? Sono Calietti, Calorosi. Bello per i giornalistici, non è proprio bello. Ragazzi, è una cosa così, non ci butta di venire a Gaeta. No, io non vengo a Gaeta, perché il codesto uomo ha detto che si è divertito senza di venire a Gaeta. Allora io faccio la nazione sola. Allora io faccio la nazione sola. Allora io faccio la nazione sola. quindi quest'estate vacanze separate per mi con il 28 allora siamo poco credenti ah mi saluto ti chiamo ti saluto ciao mi saluto ti chiamo desiderio guarda lo farei anche ciao ho visto un altro nome ciao te vuoi tornare a microsoft è una bivide è una bivide non ti attento si è bloccato ciao ragazzi adesso facciamo i palloncini mi manda una piaciuta ma lei ma lei vedete sono la notte venivata la notte chiedendo sai qual è la sua carismatta? la mia carismatta la mia carismatta la mia carismatta è un tartaglione la valletta è pure acculturato è pure acculturato che cosa vuoi di più della vita? non mi dà no non lo so perché cioè qual è il dato di qui? beh wow non mi dà non mi dà non mi dà non mi dà i calzini mi piacciono le calzoni ok e rap ciao a una marcia mi dà marcia ciao a una marcia danni non vi vediamo ah vedi, anche noi ci vediamo abbiamo un contrattore grazie 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 La cantonella lalalalalala come si chiamava la cantonella lalalalalala eccolo 100 sanzano ahahahah no non è abitudine 5 cento stai cercando casa a Milano perchè ci dobbiamo lasciare stella ma perchè? ah tu ci prendi l'estate ci vediamo a settembre non è a 20 cento 10 cento Grazie a tutti. Il problema, ci sto creando, in questo momento neanche non è male, abbiamo devastato. Berdi! Rosa mi saluti per il tuo amore! Sì! Ciao! Ciao ragazzi, mi guardatevi dietro, l'asta parte da 15 euro! Ma 15 euro! Ma così poco, salziamo! Mamma mia, sono tante pulite almeno! Perché se sono sport... Sesso le ha lavato! Ma come le ha lavato? C'è il sudore dentro! Ciao Pietro! Ciao, assolutamente! Ragazzi, mi piace molto se non è stato, ragazzi ci sono stato, quando ero io 18 anni, eh? No, io no! Mi prenderà quanti anni hai, sei 18 anni, figli a pentola, vero? Perché a pentola? Sì, ragazzini, sì! Cancio, sì! Mi prenderà… C'è un po' di nulla. Mi prenderà un po' di nulla? Mi prenderà un po' di nulla. Mi prenderà un po' di nulla. Non lo dobbiamo fare, non lo andiamo. Prendi per la casa… Ma come trovi al po' di nulla. Ma come trovi al pa bere... Ma come ne vediamo l'occolta? C'è la scola del paese? adesso non metto mai, perchè mi si attacca i capelli, sono proprio da pasticurale, sono fatto di un cielo legato, non posso dire. Ciao Camilla, è l'altro. Benzi si sta scattando per le salle. Pietro sei un figlio da madonna. Sei un figlio o sei un? Benziata ragazzi. Madonna. Bella di Pietro. E guarda, chi è? Chi è? E' una donna o no? Una donna. Una donna che dice che sono più bella di Pietro. Rosa! Da Luca! Pietro! Non mi lasciate mai! Non mi lasciate mai! Chi è? Questa è la bandità. Era lì. La senti? La senti? Chi è che mi chiama Roselle? Odio. Odio che si chiama Rosellina. Ma se faremo grande incendio? Eh infatti l'abbiamo appena visto, ma in storia c'era l'incendio. Sì, ho cambiato l'assetto, ho messo un rassetto un po' più mattone e ho messo l'isela Ciao Alessia, andiamo a pranzo e speriamo che mamma mia abbia cucinato la raccoglie di sposo Sì, non lo so, ho sempre fatto un po' più mattina, non lo so, non mi sono mai con la ricetta Sì, no, non lo so, non lo so, di solito quando le dico mamma veniamo a mangiare, sì ok buco, chieda schiccio a fuori cosa Ma niente, no magari, vabbè sarà una ragazza Sì, non lo so, no, non lo so Sì, mi dovete sposare e fare dei membri ma voi vi scusate ma voi vi scusate di fare i film voi li fate alla faccia ciao ragazzi sono finita le vacanze siamo anche figliosi sono finita le vacanze Antonio Romeo buongiorno Antonio mi riaggiungesti in palestra ho fatto l'altro ho fatto l'altro ho fatto l'altro Antonio chiusci guarda è veramente dirlo pensavo che eri Antonio pensavo che fosse un ragazzo serio affidabile invece lo sento voi proprio i peggiori i peggiori mi piace il peggiori mi piace il peggiori vado a parlare con Martina altrimenti lo sono lo sono lo sono lo sono che gentaglia che si vediamo con me non mi posso lasciare un po' di testa lascia e mi piace il peggiorio Antonio continui a ridere, Antonio che cazzo ridi, c'è una situazione grave tu ridi quando ci vediamo cosi ti spiega? Sì, quando ci vediamo, quando ci vediamo cosi ti spiega? Sì, sì, vediamoci io due, io tu Pietro e Martino Non ti fai mai vedere Ciancio? Chi è che non ti fai mai vedere? Io, meglio, dopo che se ti vedo Grazie a tutti! Oh, ciao Giancio, ciao, ciao Zara, ciao mi chiamo? Ciao Francesca Buongiorno a tutti. 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 e... Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.